Il profetto che state per vedere in questione dell'albero è della Egan Sono andato al Conad e ho speso ben 15 euro E che cosa mi hanno dato in omaggio? Bensì non un gufo ma bensì 5 gufi Egan Vi farò vedere cosa sono usciti Allora sono usciti due doppioni che me li tengo Due rari e uno classico Partiamo con i classici La questione rappresenta questo pupazzo di neve gufo Egan Questo non ce l'ho dalla collezione perché c'è il biscottino di marzapane Questo io non l'ho Numero 1 pupazzo di neve Poi abbiamo due rudolf gufo Guarda coppia 1 e 2 Che probabilmente possono piacere Vedi 1 e 2 Attenzione attenzione Questi due gufi sono dei cantanti dalla forma Partiamo con questo Elvis Prosley gufo Ma è bellissimo Marilyn gufo